Ok, fatto Grande Allora, qua invece, in verità, se non ne ricordo male Eravamo in casa ed è tutto distrutto E dobbiamo arrivare sul tetto Sì, però io non vedo niente Allora, aspetta Sta succedendo qualcosa che non dovrebbe accadere Ma che accada ogni volta Ok, si era bloccato un attimo Ok, bene, mi è crashato il gioco Cazzo, dai, non mi dire che mi si è bloccato proprio qua Adesso non funziona più Vediamo Ok Nulla, forse posso spostarmi veloce Dai, 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 accelera, corri Dai È quel pezzo, è quel pezzo, lo so Però è a inizio gioco Ok, forse sono riuscito a superarlo Dai Ok Sono riuscito a superarlo Sì Grande Assalte le Rage Stag Abitivi aggiornati Mamma mia, mi si bloccava là in continuazione Fortuna che sono riuscito a farlo ripartire Bellissimo questo quadro Bellissimo Allora, quanti colpi ho di questo? Bello, bello, bello questo Oh, grazie per il checkpoint Nessuna pietà Oh, il Mosin Merda Ok, aspetta, aspetta Porca puttana L'ho preso Come fanno a colpirmi? Da qua dietro Da, da qua dietro poi Ah, perché c'è uno là Via Allora Porca Quanti cazzo ce n'è Beh, giustamente è la loro Tana Ok, via Ah, aspetta Forse posso andare di qua io Ci Allora, ci abbassiamo Prendiamo questa Uh, grande Ho preso dei colpi Non me ne ero neanche accorto Quindi Via Ok Mettiti qua Ok, dai Quindi loro praticamente Seguono sempre me Non avanzano Se io non avanzo Dai, minchia Che mira di merda Che non li riesco a pigliare Che Sono dietro le I vari ostacoli Qua? Che c'era qualcuno? Ok Si stava riparando Guarda qua il radar Com'è pieno di gente Ok, presi Come fa a prendermi? Come fa a prendermi? E carica l'arma Allora Questo Eh, però volevo prendere il Mosin È bello Se mi trema tutto Uh Ok, grande Vediamo un po' se riesco Magari a trovare Altra arma In che vero cos'era Carino Però ho pochi colpi Eh, ridammi questo Sì, dai Questo è il nemico Porca dai, però Guardalo lì L'ho preso, però Ok, dai Ce l'abbiamo quasi fatta? Ma di nuovo lui No, vabbè Oddio L'MP Vabbè, dai, no Sperando che possa morire Qualcuno dei miei uomini Così da prendere la stessa arma Però Ok Ok Merda Ma un checkpoint, no? Oh, grazie Me lo sono chiamato Va bene Allora, lanciamole la bomba Grande, vedi che Mi hanno seguito anche loro Solo che Non so come buttare le altre Quattro, penso Oh, bello Bellissimo Via Ok Ok, tanto l'arma Automatica Ce l'ho Merda Ok, piano 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 Acquattiamoci L'amado Devastati STG 44 Ah, no Questo qui è Non è Automatico Però L'MP lo è Dai Ma sempre pochissimi colpi Con l'arma tedesca Arriviamo in cima Ok, dai Siediamo su Grande Almeno Ho trovato Dei colpi Qua non c'era anche la carta morte Tipo là dietro In zone così Boh Forse no Oh, scusami Scusami Quello Vabbè Mitragliere Rezno Guarda Che spettacolo Così finito Così finito Forse era qua dentro La carta Sì Me la ricordavo Questa Vabbè Dai Così A metà Siamo arrivati Il 2dp Che abbiamo trovato Ok Sto continuando A trovare colpi Su colpi Guarda che figo Oddio Obiettivo Aggiornati Checkpoint Raggiunto Mi si blocca Di nuovo C'è una fottuta Musica Che No Cazzo Avanza 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 Corri Merda Nada Non funziona niente Devo riavviare il computer Bella lì Proviamo di nuovo Anche se non credo Che facendo giocatore singolo Riprendi Mi faccio funzionare la cosa Vediamo Forse Che dicevo io Si era bloccato Merda Dai 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 Ok Forse si è ripreso Porca miseria Io ho una paura fottuta Di non riuscire a finirlo Per Per una cosa del genere Fammi correre a destra Vado su Vado su Checkpoint raggiunto Ok Questo pezzettino Sembrerebbe essere superato Io non voglio dire più niente Guarda Lasciamo stare Perché Mi si sta bloccando In continuazione Ma io butto granate Non lo so Questo mi serve Stai giù Anzi vado qua Senza correre troppo Così Ok Vediamo Allora Preso uno La terra C'è qualcuno Wow Guarda lì là Che c'è Kini Che è subito A mirare a me Oh Guarda lì Quello da col Pouncer Ah A parte che ho le Molotov Dov'è 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 Mamma mia Sono forti Preso Ok Vedo che ho le Molotov Magari un paio Le butto Un bel paio Magari Dov'è Dove sono Che mi segnali Il rosso Ah qua Minch allora Sì Vai 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 Allora più su A Yosa Due Tre Ah forse arrivano all'infinito Qua dai Bravi che vi siete messi anche voi qua Bravissimi Porca Questo è stato il Pouncer Alzati Ok Abbiamo preso le munizioni Anche Non capisco dov'è Non capisco dov'è Ok Ho visto il fumo di là Eccolo lì Uh Preso Tre i nazisti Sulla passarella Perché mi devi cambiare No mettimi questo C'è qualcuno dall'altra parte Minch sì Piano Eh però ti devi togliere Polonski Ah no Polonski era Dall'americano Obiettivo completato Livro il piano terra dal Parlamento Obiettivo aggiornato Ah ok E il Parlamento Tedesco Che c'è a Berlino Che devo fare adesso Ok vai scendiamo giù Mi dai un checkpoint Per sicurezza Sai com'è Madonna È un attimo Non così a caso Perché Mamma mia Il cecchino è qualcosa di devastante Con che potenza poi Con che potenza Eh avanzare un attimo Perché è impossibile Per me avanzare Ah da qua Ok Avanziamo dai Proviamo Ma cosa E dov'è il Panzer Sì ma sempre io Basta Oh da qua Preso Ok carichiamo l'arma Momento eh Ce n'è uno qua Preso Mosin Nagant Eh quello è anche buono Ma finchè ho il cecchino Continuo ad usare il cecchino Ah nessuna granata primaria rimasta Allora Mettimi questo Presi Bella Dai andiamo via Anche io Potrei dirlo Eh lo so Guarda che figo Che è venuto giù Bellino A parte armi Sì armi Mani A caso Per terra Ok andiamo via Apritela subito Quale Questa Sì Ti prego salvami Spingi E' bloccata dall'altra parte Mi serve aiuto Boom Adesso esplode Ah ecco cos'era Via tutti Per la porta Obiettivo completato Persegui con la liberazione Della Reichstag Obiettivi aggiornati Checkpoint raggiunto Grazie Ok Ah qua siamo dall'altra parte Dove erano quelli sopra Merda Ok via Ricarica Ricarica Abbassati Io un cecchino ce l'ho ancora Vero Sì Ho preso anche dei colpi In verità Meglio Bella Aspetta forse la qua Bastardo T'ho preso però Che figo Vai Si può avanzare Cosa non è il cecchino Eh vabbè Dai Però dobbiamo avanzare Un minimo Abbassati un po' Ste fottute bombe Ok Nice 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 Da qua Eh lo so Vai 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 Così finito Questi sono con noi Sì ok Oh Merda Aspetta Sui balconi Ma io Ne ho visto uno qua Però Aspetto che Si Tolga La nebbia Si dirà La nebbia Non l'ho preso Ok Adesso si È solo che Non li vedo Gli altri C'è troppo fumo C'è veramente Troppo fumo Vabbè Intanto Caricami l'arma Ok Anche qua C'era una parte online O sbaglio Cioè Era una mappa online Anche questa Non me ne ricordo Ah eccolo lì Uno Ma come cazzo Fa a prendermi Ok 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 La 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 Vista Vista Eh però trema tutto Preso Due Ultimo Yes Eh il cecchino È fantastico Fondamentale Ok Basta Cazzo È uscito a caso Allora Ricarica Ok Bello Che spavento C'è corrente Eh lo sapevo Oppure Ricordavo che c'era anche un pezzo Tipo sulla nave Forse con L'americano Non mi ricordo bene Dai stiamo qua Avanziamo un po' Che se avanzo io Forse anche loro avanzano Ok Sì dopo milioni di anni Ma Ce la c'era anche qualcuno Questo è cattivo No Eh l'MP40 Però il portatore della bandiera Era Era già morto prima Porca Recupera la bandiera russa Eh sì Ma io posso cambiare arma No ok Solo questo Non puoi sdraiarti con quest'arma Ad abbassarmi neanche Ok no Posso correre Sì Bastardo Fino all'ultimo Guardare Eznov Col macete Stupendo Sopravvivi sempre Fino all'ultimo Che figata L'onore Dovrebbe essere tuo Grazie Reznov F F Bellissimo Oh i sottotitoli Oh i sottotitoli E' la vittoria Anche ad est Con la bomba però A psalm agreement Whereby Peace may be restored Is my earnest hope And indeed the hope Of all mankind That from this Solemn occasion A better world Shall emerge Out of the blood And carnage Of the past A world Pounded Upon faith And understanding Of man And the fulfillment Of his most cherished wish Of freedom Tolerance And justice Mamma mia 60 milioni di vita Orribile E abbiamo concluso Call of duty World At war Dopo milioni Di fatiche E tentativi Dedicato A tutti i veteranni Della seconda guerra mondiale Che hanno sacrificato Le loro vite Per la Per La preservazione Della libertà Comunque per Ok niente Questo era Call of duty World At war Titolo appunto Del 2008 Per Xbox 360 Playstation 3 Computer E Un'altra console Che ora comunque Non mi sfugge Comunque in descrizione Scritto tutto quanto Che dire È stata una bellissima Riscoperta Poterlo Rigiocare Mi è piaciuto Veramente tanto Purtroppo ci sono stati Questi problemi Di Gioco Di Registrazione Più che altro gioco Che si bloccava Molto spesso E questo mi ha Mi ha dato anche Abbastanza fastidio Però Dopo vari tentativi Finalmente siamo riusciti A concluderlo Tra l'altro Questa è la mia Prima serie Completa Che Inizio E finisco Su Twitch Sono veramente contento Di averla portato È stata una bella Riscoperta E niente Spero che Il gioco di Call of duty World at war Del lontano 2008 Vi sia piaciuto Anche a voi E Come detto Io l'avevo giocato All'epoca Ricordavo qualche Missioncina Quella Però adesso Con una consapevolezza Con cui si è un po' Più grandi Comunque Sono passati Dieci anni Dall'ultima volta Che l'ho giocato Molto bello Poi soprattutto I filmati I finali Anche Fanno Davvero capire L'importanza E Comunque La Tragicità Comunque Il fattore Che è molto tragico Della Della guerra E Comunque Per tutti Quelli che sono Appassionati Della seconda guerra Mondiale E non Dovrebbero potersi Giocare Questi giochi Vedersi Comunque Anche Documentare E quant'altro Così da Informarsi Abbastanza Però appunto Per quelli appassionati Come me Per appunto Per la seconda guerra Mondiale Vedere una realizzazione Proprio In cui sei Immedesimato Sia Da parte degli Americani Che dei Russi E' stata una Bellissima cosa Proprio perché sei Immedesimato In mezzo alla guerra In mezzo a quello Che è successo Quindi Bello Ma ovviamente Tragico E traumatico Il tutto Però Sperando che non possa Mai più accadere Una roba del genere Speriamo E niente Che dire Spero che comunque Il gioco vi sia piaciuto Niente Se avete voglia Di lasciare un bel like E un commento Qua sotto Siete liberissimi Di farlo E Mi raccomando Di iscrivervi Al mio canale Qua su youtube Se non l'avete ancora fatto E di seguirmi Su tutti i vari social network Che ci sono qua Sotto In descrizione Noi come sempre Ci vediamo Alla prossima Serie Un saluto a tutti Belli Alla prossima Ciao Tanto resto connesso Ma tolgo Il microfono Metti caso Che c'è qualche Scenetta finale PS Prima che mi scordavo Ringrazio tutte le persone Che sono passate Qua su twitch In particolar modo Guercio Ad 35 Che ci sono venuti a salutarmi Un po' di volte Guercio Molto Molto più spesso Quindi grazie mille Guercio Ti saluto un sacco E Vivi Sector Che è passato alcune volte Però spero che te possa stare meglio Il prima possibile Grazie ancora a tutti Anche per quelli silenziosi Che sono passati Senza salutare Quindi Niente Vi lascio Ai titoli di coma Grazie ancora a tutti